Mister Paolo Indiani, allora ci siamo, il big match è domani, l'Arezzo si gioca tanto e soprattutto deve dare una risposta alla brutta prestazione di domenica scorsa. La prestazione di domenica scorsa non c'entra niente con la gara di domani, domani è un'altra gara, un altro nuovo posto, un altro ambiente, tutta un'altra situazione. Se pensiamo alla gara di domenica scorsa abbiamo già perso prima di cominciare, non ci dobbiamo pensare alla gara di domenica scorsa, dobbiamo andare lì domani e cercare di fare il meglio domani contro la squadra che affrontiamo domani. Qual è il morale della sua squadra in questa settimana di ritiro? La settimana di morale deve essere alto, perché se è basso significa che non siamo all'altezza per poter fare un discorso di vertice. Io lo dicevo, si vincevano tutte, dicevo basta, bisogna andare avanti, bisogna migliorare e questo è un altro aspetto. La grossa squadra dice domenica è andata così, pazienza, ripartiamo e ridimostriamo che siamo sempre noi. Cosa credo facciamo domani. E con lei in conferenza stampa ha detto di essere rimasto sorpreso da questa pianese perché è andata ben oltre quelle che erano le previsioni. Sorpreso, bisogna fargli complimenti, non sorpreso, bisogna fargli complimenti perché è chiaro, 32 punti dopo 13 giornate sono tanti, tanti, tanti. Io per primo nessuno avrebbe pensato, ma nemmeno loro forse, nemmeno loro avrebbero pensato i 32 punti. Però bisogna fargli complimenti, però ancora il campionato è lungo, noi siamo lì e vediamo alla fine chi la spunterà. Avrà già in mente i ragazzi da far scendere in campo fin dal primo minuto, ci può anticipare qualcosa? Anticipare no, perché il Bonuccello dice bravo i suoi, gli dice cosa facciamo, però l'abbiamo già in mente sicuramente. Senta, è dell'idea che è fondamentale non perdere domani perché al di là della sconfitta, al di là degli otto punti che potrebbero venire fuori, sarebbe semmai una botta dal punto di vista psicologico per tutto l'ambiente. Noi non andiamo per non perdere, non andiamo per vincere, come abbiamo fatto fino ad ora e faremo sempre. Poi il campo deciderà il risultato, ma non andiamo per perdere, assolutamente. Forza rezzo. Non perdere, andiamo per vincere. Forza rezzo. Forza rezzo.